Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballGersey. Io sono Stefano e oggi vi presento la prima maglia del Chelsea per la stagione 21 e 22, nella versione fan, quella cioè dedicata ai tifosi. La maglia è blu con rifiniture bianche e gialle che troviamo ad esempio sui lati con questa banda a zig zag. Lo stemma del club e il loco della Nike sono ricamati, mentre il main sponsor è termosaldato. All'interno è visibile come stemma e logo appunto siano ricamati sulla maglia. Sulla spalla lo sponsor è termosaldato. Il Collar V è una maglia in versione fan realizzata con la tecnologia Nike Dry Fit. Sul fianco è presente questa fascia non continua ma zig zag gialla che spezza un pochino il tono blu della maglia. Allora cosa ne pensate della maglia? Secondo me è una maglia elegante, particolare con questo motivo che riporta su tutta la maglia. Nella mia classifica prende tre stelle. È la maglia dei campioni d'Europa e peraltro la maglia dei primi in classifica nella Premier League. Ora prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità e le misure, se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale per essere aggiornati sui prossimi appuntamenti. Ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia medium della versione fan. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg.